Ah, lei sa fare davvero le arti marziali, non è che stavo facendo praticamente finta, anche se in realtà io ho fatto il judo, siamo arrivati fino alla cittura gialla, che ve lo confesso è quella dopo la bianca, che è la prima, per quello ho venduto alcune milioni di copie meno di John Lensdale, scrittore texano, che tra un romanzo e l'altro ha inventato non una ma due arti marziali create da lui e non contento di affuse in una terza arte marziale, lui ha scritto 500 libri e ha anche una sua arte marziale personale, io posso fare non so, Massimo, questa mossa qua, che però è tipo Elvis a fine carriera e non è credibile.